L'umorismo graffiante di Mauro Biani che ci accompagna con le vignette su Repubblica L'Espresso, vediamo come vede, come legge questa 2020 così difficile che sta per finire Anna Frangione. Il 2020 è stato monopolizzato dal coronavirus, quindi quasi tutte le vignette sono su questo e questa qui parla appunto del rapporto un po' di mutazione del virus o dell'uomo. C'è stata la possibilità di vedere la pandemia da tanti punti di vista, sia dal punto di vista appunto nostro che dal punto di vista delle altre situazioni del mondo, comunque continuavano a succedere tra migrazioni, guerre. La sfida è anche un po' questa, cioè la possibilità di guardare lo stesso magari, la stessa cosa, la stessa esperienza ma da altri punti di vista. Questa vignetta invece riguarda sempre l'aria e quindi sempre un po' la mancanza d'aria, ma si riferisce per l'appunto all'omicidio di George Floyd, quindi un tema internazionale e in questo caso appunto però si rifà a quello che è il virus del razzismo. Poi nel 2020 sono morte persone molto conosciute, però probabilmente quest'anno ancora più, come dire, ancora più importanti, almeno dal mio punto di vista, una appunto è Maradona e questa qui su Gigi Proietti, il Cavaliere Nero è una cosa, un suo cavallo di battaglia. Credo che sia stato insomma un anno molto complicato, molto difficile. Auguro un 2021 di riduzione del danno per tutti.